Una mostra internazionale itinerante di opere d'arte ispirate verso i ovidiani realizzata appositamente da 20 artisti provenienti da 4 nazioni, Italia, Grecia, Bulgaria, Romania, che partendo da Sulmona, città natale di Ovidio, ripercorrerà fino a settembre prossimo le tappe dell'esilio che affrontò il somo poeta da Roma a Tomi. L'iniziativa organizzerà dal Museo d'Arte di Costanza in collaborazione con i comuni di Sulmona nell'ambito delle celebrazioni del mio millenario della morte di Ovidio. A rappresentare l'Italia tre artisti del centro Abruzzo, Lino Albiani di Casteldisangro, Arturo Faella di Sulmona, Ioselin Giovani di Popoli, protagonisti della rassegna Metamorphosis Beyond Shape. Si prosegue quindi questo percorso di gemellaggio con il comune di Costanza in nome di Ovidio, che ha portato e che porterà ancora ad altre iniziative. Un flusso di collaborazione e di scambio non soltanto strettamente culturale, ma anche economico in quanto l'arte ha dei suoi percorsi. Il nostro ruolo è di coinvolgere la nostra comunità in tutti i progetti che si svolgono nella nostra città e soprattutto nella nostra Valle Pelligna. L'inaugurazione della nostra è in programma nella Rotondale San Francesco della Scarpa il prossimo 15 maggio. La conclusione del viaggio, ogni artista accederà al Museo d'Arte di Costanza, una delle tre opere esposte, in modo da costituire un patrimonio internazionale e interculturale che celebi per sempre la grandezza di Ovidio e delle sue patrie e nel contempo testimoni la ricchezza culturale odierna del territorio sulmonese.